Eccomi! Oggi vediamo la prima maglia dell'Aston Villa, quindi una squadra inglese, per la stagione 22-23 nella versione player, quella indossata dai calciatori. Introducendo il look tradizionale del club, la maglia casalinga Castor Aston Villa 2022-23 combina una base bordeaux con maniche azzurre. Inoltre, la maglia da calcio casalinga Castor Aston Villa 2022-23 presenta un sottile motivo a V sul davanti e sul retro. Uno scolla V bordeaux con rifinitura azzurre, un leone azzurro sulla parte superiore della schiena e loghi degli sponsor bianchi sul petto completano il design pulito. Pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri completano il look della nuova maglia casalinga dell'Aston Villa 2022-23 di Castor. La versione player è la maglia ideata per il fisico degli atleti. Hanno un costo un po' superiore e presentano materiali più tecnici. La maglia è veramente molto bella, peraltro mi porta alla mente ricordi della mia gioventù quando adoravo la Ston Villa come squadra per i suoi colori. Nella mia valutazione questa prende 4 stelle, secondo me è veramente una maglia fatta bene, con delle belle rifiniture molto, diciamo così, british, quindi ha un suo fascino. Qui in alto vedete il costo che per una versione player è veramente bassissimo e vi ricordo che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia che oltre ad avere un'ottima qualità ha anche dei tempi di consegna molto buoni, questa è arrivata in 17 giorni. Ora vi lascio la parte in cui vedrete le misure, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se la maglia mi piace lasciando un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.